Carenza di vaccini anti-influenziali a Chieti a poche ore dall'inizio delle mese di dicembre. Sono ancora troppi, infatti, i cittadini che non sono ancora riusciti a vaccinarsi a causa della mancanza cronica di dosi. A lanciare l'allarme è stato questa mattina il sindaco del capologo teatino Diego Ferrara, che si è rivolto alla ASL, ma anche alla regione Abruzzo. Tutto può essere preso in considerazione, il ritardo della produzione da parte delle ditte farmaceutiche, l'aumento numerico della platea degli eventuali beneficianti di questo vaccino, che quest'anno è arrivato al 50% in più rispetto agli anni precedenti. Però non capiamo dove si trovi l'inghippo nella programmazione e nelle gare fatte dalla regione per approvvigionarsi. Da tenere presente che altre regioni invece stanno in condizioni migliori di noi. Quindi noi continuiamo ad avere fiducia che questi vaccini arrivano, però ovviamente non possiamo non perorare con forza questa situazione, questa fornitura. Per quanto riguarda il centro vaccinale che avevamo già individuato nell'asilo Peter Pan, in Via dei Vestini e in Via Pescara a Chitiscalo, dovremmo, siamo a buon punto, io ho parlato questa mattina stessa col direttore generale Shell, per riadattarlo come centro vaccinale ed eventualmente in un momento successivo non emergenziale come distretto di base di Chitiscalo.